E' un sabato interessante per la pallavolo, sia per la serie C femminile che per la serie B maschile. Per le ragazze fucsia della pallavolo Cirignola, seconda giornata della serie C femminile, con l'impegno casalingo il primo davanti al pubblico del palladileo contro la formazione del QT Volley. Le ragazze allenate da Michele Valentino lo scorso weekend hanno vinto all'esordio in trasferta al quinto set ad Altamura con il ponteggio di 3 a 2. La settimana è passata tranquilla soprattutto per recuperare influenzate e non solo. Invece attesa per l'Udas Volley, dopo l'esordio con una sconfitta al palladileo contro l'ortogheia ostunico del ponteggio di 3 a 0, affrontano la delicata trasferta di Andrea, anch'essi reduci da una sconfitta all'esordio. I ragazzi allenati da Roberto Ferraro cercano dunque di dare subito una impronta di riscatto dopo un inizio certamente non agevole, ma il campionato è lungo ed amalgamare i vari pezzi ed il team in questione non sarà cosa semplice, ma bisognerà farlo partita per partita. Mimo Siena, Speciale News.